Io sono arrivato a gennaio dove era stata rivoluzionata un po' la squadra, quindi era un ambiente un po' particolare, in pochi si conoscevano, era un po' strano. Oggi abbiamo un gruppo amalgamato, persone che stanno bene insieme, quindi si riparte da questo, da un gruppo che comunque è affiatato. Io spero e credo sia giusto continuare da dove abbiamo finito, cioè con quella mentalità lì di impostare il nostro gioco e non aver paura di nessuno. Se lo fai dall'inizio forse puoi avere una vita un po' più serena. La salvezza è credo che per quest'anno ancora sia l'obiettivo di questa squadra, è normale, si cercherà di raggiungerla con una tranquillità diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Poi se noi guardiamo l'anno scorso, squadre come il Parma, il Torino, che comunque sulla carta erano buone squadre, ma non dà quel campionato lì, forse tutti possono sperare sempre qualcosa in più.